salve a tutti io volevo invitarvi al campus dell'accademia gioconda di vito che si terrà anche quest'anno a castellaneta marina in una struttura molto bella e con una organizzazione che mi sembra di grande efficienza io quest'anno potrò essere della partita soltanto per un giorno e quindi farò una lezione collettiva probabilmente parlando ai ragazzi di varie problematiche legate alla carriera ma se ci sarà il tempo volentieri farò anche delle lezioni individuali il corso si tiene dal primo al 6 settembre la mia data ancora non la so con esattezza però guardate sul sito della scuola gioconda di vito appunto e avrete tutte le informazioni del caso spero di vedervi numerosi arrivederci e buona estate salve a tutti sono molto contento che nonostante il periodo difficile anche quest'anno il campus musicale estivo di castellaneta marina si svolgerà regolarmente nella prima settimana di settembre si tratta per quei pochi che non lo sapessero di un evento musicale di altissimo livello in cui grandi musicisti daranno lezioni terranno corsi di vari strumenti frequentato da un gran numero di allievi quindi un evento assolutamente da non perdere in una cornice splendida come quella di castellaneta marina immersi nel verde a pochi passi dal mare cristallino della puglia quindi vi invito a partecipare e con entusiasmo e vi aspetto numerosi grazie ragazzi cari vi aspetto tutti a settembre dal 2 al 5 a castellaneta dove terrò la mia masterclass di canto e musica vocale da camera il 5 settembre i migliori allievi parteciperanno al concerto finale e verranno selezionati per un concerto premio da realizzarsi nell'estate prossima vi aspetto numerosi e intanto tanti bacioni e buona estate